A seguito della nomina per l'ice bucket, ovvero il secchio d'acqua gelato in tessa con tanto di selfie a seguito sui social network, l'Aggiunta Verrocchio mette a sistema una iniziativa assolutamente meritoria. Non ci sarà la secchiata d'acqua quindi per il sindaco Robert Verrocchio, ma il via è un'iniziativa assolutamente meritoria. Ecco sindaco, sarà una tantum o un'iniziativa poi regolamentata? No, sarà un'iniziativa regolamentata, deliberata perché intendiamo ogni mese versare su un capitolo parte delle nostre indennità, circa 700-800 euro al mese, una somma che ogni mese assegneremo ad una ragione sociale, ad un progetto sociale. In particolar modo mi piace pensare di poter aiutare le associazioni, ci piace pensare di aiutare le associazioni e le realtà che aiutano gli altri. Infatti l'iniziativa aiutiamo chi aiuta. In particolar modo abbiamo preso questo impegno sui social, non faremo la classica secchiata d'acqua, ma manderemo un nostro contributo per la SLA come prima mensilità. E poi continueremo ogni mese in modo puntuale, delibereremo un contributo da destinare a finalità sociale. Sociale quindi a 360 gradi? Sociale a 360 gradi, l'abbiamo già fatto con la Caritas durante la campagna elettorale, non abbiamo deciso di non festeggiare ma di destinare la Caritas a un importo, non è escluso che si torni proprio alla Caritas, ma ci sono tante associazioni che si occupano di disabili, si occupano di persone più deboli, insomma c'è tanto da fare nel sociale, abbiamo voluto puntare su questa iniziativa.